Un cordiale saluto, vi presento, sono Maurizio Brunelli, uno storico medievalista per passione. Siamo entrati nel clima delle prossime celebrazioni dantesche del 2021 e vorrei per questo parlarvi di un mio lavoro, l'ultimo lavoro, un saggio dal titolo Can Grande Dante, il ruolo delle stelle. Il libro è stato pubblicato tra cinque edizioni ed ha avuto il patrocinio della società Dante a Ligieri. Ho voluto offrire con questo libro lo spunto per una nuova lettura del sodalizio Dante Can Grande della Scala, intrecciando fonti storiografiche con astrologia e letteratura. Lo scopo è duplice. In primo luogo quello di dare una risposta per quanto possibile, più convincente alla scelta di Dante di trascorrere gran parte del suo esilio proprio a Verona e proprio nel momento in cui a governarla era Can Grande. E secondariamente quello di far conoscere Can Grande al vasto pubblico. Lo scaligero è infatti un personaggio pressoché sconosciuto fuori Verona e chi lo conosce lo deve alla lettura del paradiso di Dante e al fatto che fu il suo munifico mecenate. In realtà Can Grande fu uno dei protagonisti della scena politica del nostro Trecento. Era entrato nel mito già in vita per essere un condottiero indomito e valoroso, un principe giusto e magnanimo. Incarnava insomma quel modello di cavaliere dell'epopea cavaleresca cantata dai trovatori provenzali e nostalgicamente evocata da Dante. Can Grande perseguì un ambizioso progetto di espansione territoriale che se realizzato avrebbe avuto le dimensioni di un regno e questo sotto legge da dell'impero. Ma c'è un altro aspetto assai singolare in questo mio lavoro che è poi il tema dominante di questo saggio che a grande fu oggetto di una profezia e di un oroscopo tanto che si può affermare che il suo concepimento venne scrupolosamente programmato dagli astrologi. E questo l'ho potuto ricavare una fonte letteraria, un poema lui dedicato e scritto durante gli ultimi anni della sua vita. Egli doveva insomma rispondere all'esigenza di possedere le caratteristiche adatte a realizzare quel grande progetto. E così Can Grande si sentì un predestinato dalle stelle e da questa consapevolezza trasse la forza e determinazione che Dante, poi dirà nel Paradiso, in non curare d'argento né d'affarne. Ed allora la domanda è questa. Dante, esperto conoscitore di astrologia, potrebbe aver conosciuto il progetto e l'oroscopo in occasione della sua prima venuta a Verona quando conobbe Can Grande giovinetto? E qualche anno più tardi, una volta constatato che questo progetto non era solo frutto di brama di potere ma aveva una natura etica, potrebbe averlo spinto a scegliere di nuovo Verona per seguire da vicino i passi di colui che come l'imperatore Enrico VII pareva essere l'uomo della provvidenza? Da quella fonte letteraria che ho appena citato sono riuscito a ricavare le coordinate di quell'oroscopo e ho provato a ricostruirlo mettendo a confronto quanto emerge di lui sul piano psicologico caratteriale con quanto ci è stato tramandato dalle feonti coeve. Non si deve dimenticare che l'astrologia al tempo di Dante era considerata una scienza e che non vi era nessuna persona colta che dubitasse della sua influenza sull'uomo e la materia in genere. Ma attenzione, il lettore non deve incorrere nell'errore di dare un giudizio negativo dell'astrologia ragionando con la mente di oggi, ma deve chiedersi quale valore davano ad esse agli uomini del Medioevo. Solo così si può comprendere l'importanza del mio assunto. Grazie.